Sempre in diretta sulle frequenze di Radio Cusano Campus, la radio dell'Università degli Studi, Niccolò Cusano, salutiamo anche gli amici che ci stanno guardando sul 264 del Digitale Terrestre, Cusano Italia TV, Mattia Igito Basioglu in cabina di regia radio, Samuel Maiolatesi in cabina di regia video. Mi voglio parlare adesso di una proposta di legge che staziona in Parlamento dal 2020 e non vede la luce. A portarla avanti è in particolare Stefano Fidelio con il quale ci stiamo mettendo in contatto, è l'ideatore di questa proposta di legge ed è una proposta di legge contro l'ostracismo attuato dai testimoni di Geova. Stefano è un attivista di un gruppo che si chiama Uscire da Testimoni di Geova. Noi dell'ostracismo di Radio Cusano Campus ne abbiamo parlato tanto in diverse puntate perché cosa succede? Quando qualcuno di questa religione decide di uscire definitivamente dai testimoni di Geova viene perpretata questa dinamica che si chiama appunto ostracismo, cioè attorno alla persona che decide di lasciare i testimoni di Geova viene fatta terra bruciata. Questa persona praticamente si trova totalmente sola da un giorno all'altro. È la famiglia che abbandona, cioè chiude tutti i rapporti, non si sentono dal telefono, non si vedono. Questa persona resta totalmente sola in balia di se stessa e ci sono delle persone che possono andare in depressione, qualcuno pensa anche a dei gesti estremi. E appunto c'è questa stazione, ormai da diverso tempo, ormai da quasi tre anni, una legge proprio contro l'ostracismo e l'ideatore di questa proposta di legge è Stefano Fidelio ed è in collegamento con noi. Ciao Stefano, benvenuto. Buongiorno. Grazie mille, grazie. Allora io voglio raccontare, no grazie a te di aver accettato, perché è un tema particolare, no? È un tema scottante, è un tema che sta a cuore a tante persone che hanno deciso di lasciare questa religione, la testimoni di Geova. Io voglio raccontare la tua storia, perché tu non nasci testimoni di Geova, giusto? No, esatto, esatto. Tu ti sei avvicinato all'età di... Sono entrato dopo. Quando? Sono entrato all'età di 22 anni più o meno, ho iniziato a studiare a 22 anni la Bibbia con loro, poi a 24 sono entrato. Ma perché ti sei avvicinato a questa religione? Eh, ero in una ricerca mia, poi insomma mi ha portato, mi portava alle riviste, quella che era la mamma di due mie amiche, e allora poi a un certo punto mi hanno proposto lo studio. Siccome non conoscevo la Bibbia, ero totalmente ignorante di quei discorsi lì, alla fine mi ha preso quella cosa. E devo dire, avevo un po' le difese scoperte, perché insomma uno dei motivi per i quali tendenzialmente si fa prendere è proprio la non conoscenza di certe cose. Quindi la curiosità... Sì, in ambito magari anche così di marketing, poi sì, era un mio bisogno emotivo diciamo. Cioè quelle realtà lì fanno leva sul bisogno emotivo delle persone. Spesso infatti generalmente ci vanno, soprattutto chi ha problemi, magari chi ha avuto un lutto, chi ha una malattia, cioè chi sta superando delle difficoltà. Facendo leva sull'emotività poi viene azzerato un po' quello che è il senso critico delle persone. Infatti io l'ho ritrovato la mia razionalità dopo essere uscito. Prima in un certo senso si azzera. Tu in quei due anni sono stati, come li hai passati? Perché tu sei arrivato lì a 22 anni e poi sei uscito all'età di 24. Hai cominciato a studiare e poi a 24 anni hai deciso di abbandonarli. Quindi per te non c'è stato l'ostracismo perché la tua famiglia non è testimone di Geova? No, esatto, la mia famiglia no. Allora io sono un caso a parte, nel senso che essendoci entrato dopo ed essendoci stato poco, la mia esperienza è pressoché positiva, nel senso che ci sono state poche problematiche in realtà. Il problema è proprio per quei giovani che ci nascono e ci crescono lì all'interno, che a un certo punto poi un po' per coesione sociale del gruppo vogliono battezzarsi come testimone di Geova. Io ho assistito ad esempio a battesimi di ragazzini di 12 anni, che poi, qual è il problema? Nel momento in cui loro poi decidessero di uscire, subirebbero quello che appunto lei ha ben descritto, l'ostracismo, l'isolamento sociale. Cioè da un giorno all'altro, perché abbiamo raccontato tante testimonianze, in particolare da Daniele Fontano, l'abbiamo intervistato, è uno dei promotori anche del gruppo, su Facebook e sui social in generale, uscire del testimonio di Geova, ha sentito proprio il bisogno di raccogliere e radunare tutte le persone che si sono ritrovate sole. Praticamente ti ritrovi solo così, ma nel vero senso della parola, da un momento all'altro, con uno smarrimento che deve essere devastante, Stefano. Assolutamente. Ora c'è da fare una specifica nel senso che, intanto che si rimane all'interno delle mura domestiche, l'ostracismo non è così grave come lo fosse nel caso in cui il figlio non vivesse con i genitori, ad esempio. Cioè se tu decidi di non essere più testimonianze... Vengono recisi... Quindi non ho capito Stefano, cioè vuol dire che se tu decidi di non appartenere, di allontanarti dalla religione, ma vivi ancora in casa e questo probabilmente lo accettano i tuoi genitori, l'ostracismo non avviene. Allora, si subisce delle pressioni psicologiche, quindi subentrano sensi di colpa, ammettiamo che il figlio, ad esempio, voglia affrancarsi da quella religione, la prima cosa che succede è che i genitori non la fanno apposta, ma è proprio per impostazione dottrinale. Poi a un certo punto fanno pressioni sul figlio perché non entri, lo sai che non va bene, eccetera, eccetera. Diciamo che solamente i legami spirituali, loro li chiamano, vengono recisi, cioè non fanno attività spirituali della religione insieme ai figli, ma ovviamente essendo che vivono nelle stesse pareti domestiche, non è che posso ignorarli. Ma il punto è che, ad esempio, noi possiamo vedere che c'è un video del 2016 sul sito della Watchtower, che si chiama jw.org, che fa vedere proprio due genitori, proprio un video in cui due genitori fanno pressione sulla figlia che ha deciso di uscire dalla religione affinché questi genitori la buttano proprio fuori di casa. La buttano fuori di casa e una volta fuori di casa c'è l'emarginazione più totale, quindi lo dice proprio la loro stessa dottrina, lo fanno vedere chiaramente nei video, salvo poi negarlo spesso, magari quando si viene intervistati, cercano di aggirare il problema. Cioè quindi questa persona rimane sola economicamente, moralmente, emotivamente, senza casa, senza niente, giusto? Ma lì dipende da caso a caso. C'è chi la vive in maniera più, diciamo così, fondamentalista e allora proprio i legami possono proprio esacerbarsi totalmente, c'è chi invece quest'isolamento si rifiuta di metterlo in atto. Però quando viene messo in atto, c'è la persona da un giorno all'altro si ritrova totalmente sola? Praticamente sì. Quando viene messo in atto, e io sono testimone proprio oculare, conosco centinaia di persone, ma anche migliaia, che mi parlano e mi dicono che hanno pensato, almeno una volta hanno pensato a suicidarsi. Una persona su due mi dice che ci ha pensato almeno a fare quella cosa. Raccontami una storia, perché tu sei portatore anche di storie, sei testimone di storie, raccontamene una per far capire anche a chi ci sta ascoltando. Cosa succede? Ma è una, ad esempio, di un ragazzo che si è battezzato giovane, poi all'età di 19 anni è uscito per ragioni appunto sue e poi è stato praticamente emarginato dalla famiglia e oltre l'emarginazione ha dovuto subire anche delle difamazioni. Ora lì non c'entra tanto la dottrina, però purtroppo poi nella subcultura che si innesca in certi contesti poi avviene anche una sorta di discriminazione. Cioè viene aditato come traditore? Tra virgolette? Sì, ma anche peggio spesso. Spesso anche peggio. E quindi questo ragazzo poi chi ha fatto? È andato via e con i genitori non ha più avuto rapporti? Sì, non ne ha più avuti e poi lui, diciamo, ha dovuto fare dell'istituto al psicologo, insomma, un po' di passaggi. Fortunatamente è musicista, quindi ha ritrovato nella musica certe cose. Si è fatto forza, però purtroppo ci sono persone che non riescono a uscirne così a testa alta come ha fatto questo ragazzo. Mi era rimasta impressa la storia di Daniele che qui abbiamo raccontato a Radio Cusano Campus più di una volta. Lui ha lasciato, è stato malissimo, si è fatto la sua famiglia, ha formato la sua famiglia e la sua famiglia d'origine non conosce i figli, il figlio. Esatto. La stessa cosa ai fratelli, cioè quando lui chiama non gli rispondono, gli attacca il telefono, poi i reporti non ci sono più stati, però non conoscono, la sua famiglia d'origine non conosce la famiglia che poi si è formato. Esatto. L'esperienza di Daniele, lo dico sempre, è proprio l'epitome di questo fenomeno qua. C'è proprio il totale, c'è la morte sociale proprio per i parenti. Raccontami, e allora che cosa è successo? Che avete cercato di far diventare legge proprio una disposizione contro l'ostracismo e questa proposta di legge è lì che bivacca, che stazione in Parlamento dal 2020. Tu sei il promotore di questa legge. Esattamente, sì. Allora, ci tengo a precisare diversi punti perché in questi anni c'è stata molta confusione mediatica su questo disegno a legge. Allora, innanzitutto, sì, io sono un attivista che si occupa del fenomeno appunto dello ostracismo e mi sono reso conto che durante il mio ostracismo ci sono altre organizzazioni che attuano le stesse meccaniche. Quindi, la norma non è volta ad personam contro i testimoni di Gio questo deve essere chiaro se no poi sembra un accadimento contro i testimoni di Gio Sì, sembra che ce l'ha appena ancora loro in realtà è un fenomeno molto più diffuso all'interno di certi gruppi chiusi così. Quindi, la nostra è una norma di giustizia sociale che semplicemente vuole andare a riempire quello che è un voto normativo all'interno della nostra legge italiana e punisce l'induzione all'isolamento sociale non l'isolamento sociale. quindi, nel momento in cui questa legge entrasse questo disegno legge entrasse in vigore ricadrebbe su coloro che inducono gli aderenti a ostracizzare chi fuori esse. Si potrebbe dimostrare Stefano? Come? Si potrebbe dimostrare o sarebbe difficile dimostrarla l'induzione all'isolamento? Sì, sì, questo si può dimostrare tramite appunto la propaganda che fanno questi gruppi lo scrivono spesso nero su bianco nelle loro riviste quindi la dimostrazione c'è poi è estremamente garantista la norma nel senso che bisogna dimostrare anche di aver subito dei danni mentali dei danni psicologici e fisici quindi l'abbiamo scritta proprio cercando di essere più garantisti possibili e quindi diciamo in questa induzione ricadrebbero i vertici cioè chi ha l'amministrazione di questa organizzazione non è che si denuncia le persone che non che ci emarginano no? Perché ognuno poi può decidere di non parlare con qualcuno nella propria individualità però si punisce chi ti ricatta a dire tu non devi salutare più quella persona perché altrimenti se saluti quella persona anche tu sei punibile all'interno del contesto religioso ok non è una non è una norma liberticida cioè noi anzi con questa norma vogliamo aumentarla la libertà delle persone e non è esplicitamente rivolta diciamo a colpire il fenomeno settario che è molto più ampio di questo è molto profondo nell'altro poi eh sì esatto ehm però diciamo ehm un fenomeno che si può verificare all'interno di qualsiasi formazione sociale come abbiamo detto prima anche in partiti politici eh poi è una norma che tutela l'articolo diciannove dell'articolo due scusate della Costituzione eh che tutela l'individuo all'interno delle formazioni sociali e e purtroppo appunto senza questa norma eh lo straccismo non 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 può essere reato l'induzione allo straccismo è questo il problema che dicevo prima eh è una norma che tutela il diritto al dissenso cioè il diritto di cambiare idea eh una persona che decide di uscire da un'organizzazione non può sentirsi eh discriminata in questa maniera e non c'è una tutela da parte dello Stato in questo senso poi viene preservata la facoltà di espellere dell'organizzazione attenzione questo è anche un punto importante eh noi attivisti che eh lamentiamo questo problema che lo denunciamo non è che stiamo a dire eh sbagliato che espellete le persone è eh sbagliata la conseguenza ehm appunto c'è l'isolamento sociale che ne consegue è sbagliato sì dicevo anche prima in armonia con l'articolo 19 che tutela le religioni il diritto alla religione qua non viene assolutamente toccato e tutela soprattutto minori e portatori di disabilità su questo ci tengo particolarmente perché conosco un sacco di ragazzi anche minorenni e perché non possono scegliere e non possono scegliere giusto non possono scegliere o perlomeno scelgono di aderire in un'età in cui non hanno bene la consapevolezza di quello che stanno facendo questo perché l'ho visto coi miei occhi eh per questo accade un po' a tutte le religioni però se poi decidi di di essere ateo o di praticare un'altra religione magari altre regioni non praticano l'ostracismo questo tu dici no? esattamente esattamente questa legge questa proposta di legge stazione dal 2020 cos'è che serve per dare una spinta? che qualcuno torni a presentarla? eh noi l'abbiamo già presentata a Camera dei Deputati eh appunto a luglio 2020 però non c'è sensibilizzazione dei politici su questa tematica e purtroppo anche le testate giornalistiche diciamo eh quelle le maggiori tendono a non parlarne mai di questo fenomeno o comunque a trattarlo in maniera diciamo così eh scandalistica senza entrare veramente nel nel problema del parlare quando succede qualcosa come quando quella bambina aveva bisogno di una trasfusione e i genitori si erano rifiutati proprio perché erano testimonio in Geova allora lì c'è stata un'attenzione particolare su alcune pratiche portate avanti da questa religione no? Esattamente sì sì proprio così eh purtroppo non non sembra poi poi ci sono altri problemi che sono secondari ma principalmente proprio che eh i politici non hanno idea di 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 questa dinamica qua infatti ho contattato qualcuno di loro e c'è proprio il totale eh proprio non non le sanno semplicemente non so perché non non mi sorprende questa cosa Stefano senti noi ci risentiamo torniamo a parlarne quando vuoi siamo a tua completa disposizione poi l'articolo di questa intervista la trovate su tag24 by unicusano perché eh scriptamanent verba volant no? quindi metteremo nello su bianco questa eh questa intervista Stefano grazie di essere stato con noi grazie mille gentilissimi grazie a te veramente Stefano grazie grazie mille ideatore della proposta di legge contro l'ostracismo attuato dagli simoni e non solo anche da altre religioni da altri movimenti presentato in parlamento nella scorsa legislatura